di fare presto per proseguire nel modo migliore la realtà commerciale duramente colpita già prima dal covid e poi dagli effetti della guerra dopo ma al vomero le cose non vanno certamente meglio chiudono bar chiudono caffetterie vomero crisi e commercio e così pasquale disauro buonasera a te al tuo ospite buonasera antonio in diretta da piazza degli artisti cuore del vomero con il nostro ospite che ringraziamo genaro capodanno presidente comitato valori collinari tra pochissimo un focus sulla crisi del commercio che interessa il quartiere vomero perché a poche settimane dalla delibera di palazzo san giacomo che ha dato lo stop alle concessioni per l'apertura di nuove caffetterie bar ristoranti e attività da sport street food al vomero si verifica un fenomeno contrario sono tante le attività che in questi giorni abbassano le saracinesche non soltanto per le ferie ma in maniera definitiva la ricostruzione nel servizio poi torniamo qui in diretta per commentarlo con il nostro ospite strade affollate e vie dello shopping prese d'assalto dai turisti e dai cittadini che approfittano degli ultimi giorni di saldi e delle offerte finali per gli acquisti eppure in controtendenza al numero cospicuo di presenze per le strade vomeresi nel quartiere collinare in questo inizio mese di agosto sono tante le saracinesche degli esercizi commerciali che chiudono per non riaprire dopo le ferie si acuisce la crisi del commercio al vomero esercenti presenti sulla collina partenopea costituiscono il tessuto portante sul piano economico con una concentrazione di oltre 1600 attività presenti su una superficie di poco più di due chilometri quadrati la crisi non risparmia nemmeno i bar e le caffetterie ma anche alcune pizzerie e locali di street food chiudono definitivamente le porte anche nel settore dell'abbigliamento la situazione non è affatto rosea un noto marchio presente da oltre mezzo secolo sta per lasciare i locali di viaccherbacher più in generale girando le strade e le piazze è possibile notare le tante porte chiuse via luca giordano via scarlatti via cilea ma anche le piazze come medaglie d'oro bambitelli e degli artisti si trasformano subendo una crisi quella del settore commerciale che non accenna a placarsi bene gennaro oggi 10 agosto tante le persone che camminano tra le strade tra le vie dello shopping del vomero approfittando dei saldi in attesa di fare un bilancio definitivo sull'andamento dell'economia del quartiere vomerese si registrano in controtendenza tante chiusure di esercizi commerciali in particolare bar e caffetterie ma non solo si sono chiusure annunciate al vomero registriamo in questo scorcio di secolo l'ottanta per cento di attività storiche scomparse adesso il fenomeno sta riguardando anche i bar che stanno chiudendo anche perché ovviamente con questa apertura a dismisura di attività legate alla somministrazione di cibi e bevande era da aspettarselo che prima o poi ci sarebbe scoppiata la crisi chiaramente noi abbiamo ascoltato anche la voce dei residenti abbiamo intercettato anche qualche turista in giro tra via scarlatti via luca giordano riscontrano diversi insomma problemi che legano il turismo al commercio ma anche al problema della mobilità le ascoltiamo insieme poi la linea può tornare allo studio intanto ringraziamo genero san giuliano per averci insomma dato il suo contributo grazie a voi e speriamo che il vomero campi pelle con l'istituzione dei musei nazionali del vomero l'unico quartiere in italia che avrà questo onore un po l'autonomo che dovrà rilanciare quello che è stata sempre una vocazione del quartiere che finalmente diventa grazie al ministro gennaro san giuliano ministro della cultura una realtà il servizio linea a voi